Sotto l'ombrellone non può mancare il melone! Eh no ragazzi, no proprio! No, 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 non si fa così! Ciao a tutti! Di l'intro, di l'intro! Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale! Non ha a che fare col melone, giusto? No ragazzi, ma con l'ombrellone! No, non è così, perché sotto l'ombrellone si vede mangiare di ogni, qualunque cosa Poche cose non ho visto mangiare sotto l'ombrellone Ma molto spesso, molto spesso sono pasti non equilibrati, non freschi, non adatti alla stagione Sì, molto goduriosi Ho visto mandare anche il palettone, palettone! L'hai visto tu mandare il palettone, però senza la candita Il palettone no, il palettone no Senza la candita No, però abbiamo pensato di proporvi un pasto completo con i nutrienti ben bilanciati Che fosse fresco, facile da mangiare, gustoso Che non vi facesse rinunciare alla linea, ma che nello stesso tempo appagasse il gusto e la panza Oggi parmigiana per tutti i giorni No, oggi una freschissima insalata di ceci e feta Andiamo di là e vediamo come si fa Oggi vi faccio vedere quindi come assemblo in maniera facile e veloce Un pasto completo per una persona a dieta Da sotto l'ombrellone Un pasto che quindi non sia troppo pesante Che sia fresco, che sia buono, che appaghi Ma che nello stesso tempo vi faccia rispettare in pieno il piano alimentare Senza dover sbattere la testa contro il problema di trovare qualcosa al mare Che vi possa soddisfare e non vi faccia sgarrare Ci occorreranno dei ceci, io ho questi dell'Ecor bio Dei pomodori Un po' di cipolla Olio extravergine di oliva Erba cipollina Un pizzico di sale La mia base proteica sarà data dalla feta Una bilancia per pesare i vostri alimenti E vai con la ricetta super buona e super veloce Voi apportate questa ricetta al vostro piano alimentare Io la farò con le mie quantità Innanzitutto taglio un po' di cipolla A me la cipolla piace Se volete questa ricetta viene buonissima anche con dell'aglietto granulare Io preferisco la cipolla perché dà quel croccante che non mi disturba affatto La taglio così sottilmente a quadrettini Faccio una griglia Dopodiché La trituro A questo punto prendo i miei pomodori E li taglio in piccoli pezzi Avevo dei pomodori molto naturi Quindi li userò per questa ricetta E mi vedrete usare sia pomodori piccadilli Che dei piccoli cuore di bue Perché insomma dovevo finirli E quindi li utilizzo matchati Sono entrambi prodotti bio Quindi non tolgo quasi nulla Nel mio piano alimentare il quantitativo di ceci da crudi Sono 50 grammi Che da cotti corrispondono a circa 120 grammi Dai 120 ai 140 Dipende dalla varietà del legume E soprattutto da quanta acqua ha inglobato Io per non sbagliarmi Siccome vedrete ne verrà una buona quantità Ne prenderò 120 grammi cotti Ok, sono questi 120 grammi Direi che sono una quantità ragguardevole Da mettere in un piatto composto Li sciacquo Ok, verso all'interno della mia insalata Ultimo ingrediente Sempre per quanto concerne il mio piano alimentare Sono 50 grammi di formaggio fresco Io ho scelto la feta Questa è da 200 grammi Quindi basterà dividere la confezione in 4 E dovrei avere già la mia quantità giusta A questo punto taglio la mia feta Nel senso della sua metà E la spezzetto All'interno della mia insalata Aggiungo il sale Non ne metterò tantissimo perché la feta è salata E metto il mio condimento concessomi Che sono due cucchiaini di olio Due bei cucchiaini Aggiungo dell'erba cipollina Che mi piace tantissimo E rimetto il tutto ben bene Qualche fogliolina di menta Giusto per guarnire E il vostro piatto super buono Super appagante È pronto per essere trasferito in un tupper Ed essere portato sotto l'ombrellone Mantenetelo fresco con i sacchettini di ghiaccio E vedrete che a pranzo mangerete una delizia Perché il tutto macererà insieme E prenderà un sapore fantastico Se lascerete le foglioline di menta Con quel quid in più Un pasto bilanciato Fatto di macronutrienti e micronutrienti fantastici Bello sostanzioso Ve l'ho impiattato per farvi vedere la porzione Quanto grande è Quindi è una bella porzione di insalata Fresca e comunque corposa Questa è la prima proposta di piatto unico sotto l'ombrellone Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo Ciao Avete visto che è bella questa insalata Tutta piena di colori E anche piena e ricca di gusto E quindi se avete un ombrellone Provatela Piantate l'ombrellone Mettetevi là sotto e vedrete che il gusto si amplificherà Spero che gradiate queste proposte Piatto unico Ben congegnato Per sotto l'ombrellone Perché noi vorremmo proporvene una serie Di pasti equilibrati Da consumare in estate Quando c'è caldo Quando siete in gita Quando siete al mare Che ne pensate? Vi piace l'idea? Fatecelo sapere Come no? Sì, sì Fatecelo sapere e scrivetecelo qua sotto Noi ci vediamo presto! Sì, sempre sotto l'ombrellone Ma sulle vostre tavole Ciao! Ciao!